Non ne ha bisogno lui per quello che non lo usa, per cui tutti quelli che usano... Però si attiva un po' con te, devo dire Geppi mi dispiace, ma quindi direi che non è il massimo la possibilità per te di cantare forse, perché se si attiva parlando me ne preoccuperai... Cioè sono stonata parlando? Esattamente Ma non si è mai sentito Luciano Ligabue, scusa eh? Io non ti avevo mai visto, ma se mi devo litigare... Scusate, ma abbiamo un gruppo di musicisti, ma cosa sentite voi? Urlando contro il cielo